Noi siamo Anonymous Stiamo per compiere un atto dimostrativo contro il terrorismo internazionale Non è Al Jazeera, non è Al Qaeda È Al Al El Shish, il kebabbaro sotto casa nostra Useremo ogni mezzo Io lo attaccherò con tutto Io senza cipolla, senza piccante Noi siamo Anonymous Signore e signori, benvenuti Dimmi che sei calda, dimmi che sei calda Manda anche tu un sms che ho scritto Filmar da tutte le ore Fra poco vai in onda Aiuta il povero Salvatore Infafattifi